Ha ammesso di aver sottratto al suo ex partito 13 milioni di euro, il senatore Luigi Lusi, ex Margherita, oggi nelle fila del PD. Intende patteggiare e restituire parte del maltolto, assumendo, si dice, le colpe di tutti. Ed è in questa frase, pronunciata dall'ex tesoriere del partito di Rutelli, che si concentrano i sospetti, tutti da verificare, e dai quali Rutelli prende le distanze con rabbia e dolore, mai esercitato responsabilità di gestione e mai emesso bonifici, dichiara. Una serie di operazioni bancarie poco chiare, effettuate dall'Usi, sono state invece accertate dalla Procura di Roma. Soldi sottratti alle casse del partito, sciolto nel 2008 per confluire allora nel PD, soldi utilizzati per acquistare un appartamento nel centro di Roma e una villa nella vicina zona dei Castelli. Una vicenda che ha dell'incredibile, afferma il numero due dei democratici, Enrico Letta, che chiede di riunire immediatamente l'organo di gestione del partito e prendere le necessarie decisioni. A chiedere le dimissioni di Lusi dal gruppo del PD al Senato e la capogruppo, fino a chiaro, una vicenda che solleva polemiche anche sul finanziamento pubblico ai partiti, molti chiedono maggiore trasparenza e una riforma del sistema.